Come vi accennavo nell'anteprima del giornale, questa sera Salvini, tanto per cambiare, ha scelto un nuovo obiettivo, non più conduttori televisivi o scrittori o quant'altro che non gli piacciono, ma direttamente i telegiornali. E' segno che evidentemente in questo momento lui o chi gli indica gli obiettivi comunicativi ritiene che faccia gioco prendersela con i telegiornali. A noi, francamente, con tutto il rispetto per il Ministro dell'Interno, fa un baffo una critica come questa, che a proposito vi spiego. Ha detto testualmente Salvini in un comizio a Legnago, vi sfido, fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali, Tg1, Tg5 o la 7, non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno. Forse dovremo parlare del concorso Vinci Salvini, che ieri è stato lanciato sui social dallo stesso Ministro dell'Interno, o forse più seriamente delle famose centinaia di migliaia di rimpatri che un anno fa erano stati promessi in campagna elettorale e che non ci sono stati affatto, ma sicuramente ne avrà parlato nel suo comizio il Ministro dell'Interno. Con il sorriso sulle labbra però ricordiamo a Salvini che abbiamo avuto modo di attaccare e criticare per queste scelte inconsulte di offesa all'informazione e chi ha governato prima di lui e con più titolo e per più lungo tempo. Certo queste cose non fanno paura e francamente non modificano neanche il nostro modo di lavorare, che sarà comunque sempre sineira e studio, anche Salvini ha fatto il classico con noi nei suoi confronti.